Ok, bene gente, riacci qua a una nuova puntata No, affanculo, che cazzo dicono la puntata? Comunque, oggi faccio un video tanto per variare dato che Eh, un po' di volte che faccio Minecraft quindi oggi voglio variare E, sì, avete letto Nightmare Ebbene sì, è Nightmare House 2 Nightmare House 2, sì Ok, comunque tanto per variare, tanto per fare una cazzatina Volevo farvi vedere una cosa che è più spaventosa È tipo un easter egg, ma è più spaventosa del gioco stesso Cioè, io appena l'ho guardato mi sono messa a piangere È stata una cosa brutale Emily mi ha tradito Ok, allora io guarderemo il video insieme Il video insieme che partirà E lo commenterò insieme a voi E dopo per una volta ve lo farò ascoltare tutto insieme E magari vi lascio anche il link della canzone se volete scaricare Perché è anche carina Ok, partiamo Metto Applica E una cosa Volevo sapere nei commenti Chi è che mi ha regalato Brink per Steam Cioè, per il computer Lo ringrazio perché oggi in libreria mi sono ritrovato Brink Che io non ho comprato Qualcuno forse me l'ha regalato Oppure Steam ha fatto un casino Comunque grazie se mi avessero regalato Chiunque sia stato Ok, partiamo Scriviamo This No, scusate Map This is not an easter egg Purtroppo Che sarebbe Mappa Questo non è un easter egg Che parla di un easter egg Pronti Ok, ora ve la farò ascoltare commentandola E poi ve la farò ascoltare tutta insieme Ok, intanto sta caricando È fiera la canzone È proprio fiera Fierissima Si vede che parte in un posto bellino Dove c'è la bambina di merda E a un certo punto arriva un mostro Con lui Ecco Partiamo qui Questo è un pisello, sì Come avete pensato Un pisello E Emily si spaventa perché è ancora verginella Dato che è morta Oh sweet lemonade Sweet lemonade Oh sweet lemonade No Da ruotare Che la bambina è anche felice Guardate E lo zombie La suona Suona anche la chitarra Eh sì, la chitarra La pianola Ma tune Ecco, guardiamo Universe Bellino eh Che è questo Ok, qui riparto Allora faccio ascoltare tutta insieme E poi vi saluto E ci vediamo Domani Anzi domani Che metterò un nuovo video Ok E ascoltatelo e gustatelo Vi ricordo che in descrizione troverete il link per scaricarla Anche perché è carina E' aurecchiabile Dopo un po' che la sentite Impazzisce Cioè ti scassa Proprio forte Rock, rock puro Metal E' metal, pop Hip hop Rap House Tutto Di Suona Ma Ok, è magnifico questa canzone, ammettetelo dai Comunque ragazzi, in questo video no sense, proprio no sense, no sense, proprio no sense Vi saluto, dato che oggi non avevo niente da fare, proprio niente, perché fuori piove Quindi non ho un cazzo da fare, tira vento, quindi vi saluto Grazie per gli iscritti, grazie per i 1200 iscritti Vi saluto e alla prossima ragazzi, ciao ciao